Posso andare all'agenzia delle entrate di scossione e proporre un saldo estralcio, di trovare una soluzione bonaria? Alcune volte mi contattano persone, aziende che hanno posizioni debitorie, magari con banche, finanziamenti e soprattutto con l'agenzia delle entrate di scossione. Queste persone sono ben informate sul fatto che con le banche e le finanziarie è possibile fare un saldo estralcio, si trovare un accordo bonario. E allora mi danno la solita battuta. Mi dicono, ma perché io non posso andare all'agenzia delle entrate di scossione e mettermi d'accordo? Magari stiamo parlando anche di cifre importanti. Alcuni personaggi famosi ho sentito che hanno trovato l'accordo a fronte di milioni di euro di richiesta da parte dell'agenzia delle entrate, accordi con l'agenzia delle entrate, appunto, quindi a saldo estralcio. Sono passati da 40 milioni a 4 milioni, da 1 milione a 200 mila euro. Bene, ragazzi, la prima cosa che dobbiamo dire è fare una distinzione tra agenzia delle entrate e accertamenti e agenzia delle entrate riscossione. L'agenzia delle entrate riscossione, appunto, riscuote, è l'ex equitalia, ok? Che riscuote per conto dell'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate rappresenta il fisco. L'agenzia delle entrate riscossione rappresenta una società di recupero crediti per conto dell'agenzia delle entrate. Sono due cose completamente distinte. E l'accordo tu lo puoi trovare, quindi si chiama accertamento con adesione. Questo è il caso di personaggi famosi che hanno trovato accordi. Con l'agenzia delle entrate, non con l'agenzia delle entrate riscossione. Il saldo estralcio, chiamiamolo così, con l'agenzia delle entrate riscossione, è possibile farlo all'interno di alcune procedure. Una tra le più importanti è la legge 3 del 2012 sul sovrandebitamento, di cui ti ho già parlato, ti ho spiegato come funziona. Vai a vedere gli altri video nella sezione dedicata alle soluzioni debitorie con banche, finanziarie e fisco. Anzi, iscriviti a questo canale per rimanere aggiornato. E quella è una soluzione in cui, sulla base delle tue entrate reali, puoi trovare un accordo, creando un piano, un accordo di ristrutturazione del debito, dipende se è un'azienda o una famiglia o una persona fisica, con l'agenzia delle entrate riscossione. Il saldo estralcio con l'agenzia delle entrate riscossione è stata un'opportunità che molti di voi magari hanno utilizzato, alcuni non ci sono rientrati, le aziende sicuramente non ci sono entrate perché si riferiva alle persone fisiche, un'opportunità che c'è stata nel 2019 con la cosiddetta pace fiscale. Quindi, morale, se ricevi un accertamento da parte dell'agenzia delle entrate, che è un'altra cosa dall'agenzia delle entrate riscossione, puoi trovare un accordo. Puoi aderire, si chiama accertamento, con adesione e trovare un accordo con loro. Con l'agenzia delle entrate riscossione non puoi trovare un saldo estralcio, non puoi patteggiare, come dicono molto, andiamo lì, ci accordiamo. Non funziona così perché ci sarebbe una disparità di trattamento tra te e un'altra azienda, tra te e un'altra persona. Puoi solo accedere tramite la legge sul sovraindebitamento e trovare un accordo con le condizioni che pone la legge sul sovraindebitamento. Questo è un video molto veloce perché questa è una domanda che mi viene posta spesso, spero di essere stato chiaro. Come al solito l'invito è quello di iscriverti a questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!